Parliamo della gestione dei campioni colore all'interno di Illustrator. Potrà capitare di aprire dei PDF che sono stati editati da qualcun altro e in cui non abbiamo nessun campione colore. Ora, in questo caso, quello che possiamo fare è sicuramente andare su Apri Biblioteca Campioni e all'interno di Campioni di default abbiamo, per esempio, RGB Base, che è quello che troviamo normalmente quando apriamo un documento dal nostro sistema. Ora, se noi andiamo a selezionare tutti i campioni, selezioniamo uno, tenendo premuto Shift, selezioniamo l'ultimo, e li abbiamo selezionati tutti, possiamo andare a dirgli Aggiungi ai campioni. Ora, questa la possiamo chiudere e qui ci ritroviamo tutti i campioni come in un documento appena aperto. Ora, se dà il caso che io questo documento lo stia rielaborando, per cui qui ho il nuovo, la nuova pagina del PDF che sto andando a fare. E qui ho dei colori che non fanno parte dei campioni. Nel momento in cui io voglio inserire questo colore, che è il colore sociale dell'azienda, all'interno dei miei campioni, non faccio altro che selezionare un oggetto o un testo che riportano questo colore, e vado a dirgli Nuovo campione. Dalla finestra che mi si apre io posso scegliere una serie di cose. Posso scegliere il nome del campione. Io qui lo chiamo. Lo nomino col nome dell'azienda e col riferimento del colore, così capisco qual è. Posso decidere se sarà un campione di quadricromia o di tinta piatta. In questo caso a me interessa quadricromia perché è un documento in quadricromia che servirà per la stampa. Posso decidere, posso modificare il campione, ma non è questo il caso perché vanificherei il salvataggio di questo colore se andassi a modificarlo. Posso aggiungerlo alla libreria personale. Io non lo aggiungo alla libreria personale in questo caso perché reputo che non lo userò molto spesso. Nel caso fosse un colore che io poi so che andrò a utilizzare molto spesso, posso includerlo nella libreria personale. Qui ho una serie di colori di aziende che so che uso spesso, e quindi all'interno ho memorizzato i colori sociali di queste aziende e posso richiamarli semplicemente con un click. Ho anche degli stili di carattere salvati per questa azienda, per cui con un semplice click posso editare il testo e farlo diventare, dargli esattamente l'aspetto, le dimensioni, le proporzioni, il fonte, il colore che l'azienda di solito utilizza. Sono tutti sistemi molto comodi per tenere sempre sotto controllo i campioni del colore e l'immagine coordinata delle varie aziende per cui si lavora.